Dipinti nella roccia franata, così l'arte risana le ferite del territorio. Al via il primo premio internazionale di pitture rupestri Guido Montauti. Un'iniziativa promossa dal comune di Pietracamela in collaborazione con l'associazione Terra Monostra e il consorzio BIM. Il vincitore andrà a realizzare un dipinto su roccia nell'area interessata dalla frana del 2011 a Pietracamela nel concorso intitolato all'artista di fama internazionale. L'iniziativa nasce in risposta a un evento franoso che c'è stato nel marzo del 2011 che ha portato un quartiere nelle condizioni di essere sottoposto a una zona rossa e la perdita di alcune opere di un grande autore, Guido Montauti, con la riabilitazione del territorio che è stato quindi interessato dalla frana e colghiamo l'occasione di dare gli onori a un artista del nostro territorio. Mi sono sentito onorato per il fatto che il paese volesse rendere onore a mio padre a distanza di 50 anni perché le pitture rupestriche di cui adesso stiamo parlando sono nate 50 anni fa e sono state mantenute in vita per 50 anni con grosse difficoltà perché lì queste pitture sono esposte alle intemperie, sole, pioggia, neve, ghiaccio e quindi è stato necessario fare una manutenzione periodica e altra andrà fatta adesso a maggior ragione perché la frana le ha ridotte in condizioni molto critiche e quindi speriamo che questo sia un motivo per poter riaprire il sentiero e per poterle fruire di nuovo, insomma, dopo che sia stato reso possibile un recupero, un restauro per il quale ci auguriamo che il liceo artistico possa dare, il liceo artistico che tra l'altro è intitolato a Guido Montauti, possa dare un contributo. Importante anche coinvolgere i giovani artisti. Sicuramente, è bellissimo pensare che qualche alunno del liceo artistico possa addirittura dopo 50 anni mettere mano a queste cose e riportarle alla vita.